Buongiorno, io sono Gianmaria Cerco, sono colpivolo di Alberto Pasetti, siamo direttori artistici del Festival Quartieri dell'Arte, è un festival storico di drammaturgia contemporanea giunto alla successivizzazione qui a Piterbo, è un festival che ha una lunghissima tradizione di ospitalità anche di poeti drammaturghi e di poeti e quindi oggi siamo molto onorabili per qui Valerio Magrelli per questa lezione magistralis che realizzata in collaborazione con l'Università di Storia della Duccia apre il programma della Succesi di Dicenegro. Grazie per questa bella accoglienza e questa splendida sala, grazie al Dettore, grazie agli amici organizzatori, io ho scelto volutamente un titolo difficile, artesonale, la scrittura fra linguaggio e esperienza per cercare di tracciare il percorso opposto, cioè calarmi nel fare delle cose. Se ciò che ci distingue da tutte le altre specie è la parola, usiamo gli unici votati di parola, si dice anche che siamo gli unici capaci di ridere, bisogna vedere quanti due cose sono nel rapporto. La poesia che della parola è l'operazione suprema costituisce addirittura la nostra meta antropologica, la nostra meta genetica. Certo, diciamo, Brodsky parla proprio a Mosca, è un grandissimo poeta, però credo che nessuno sia arrivato paradossalmente ad affrontare l'argomento in maniera tanto decisa. L'uomo è linguaggio, la poesia è la massima relazione possibile con il linguaggio, quindi noi esistiamo per fare poesia e terminano con questa splendida magia. Grazie. Devo mettere all'ombra? Grazie. 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 Ciao. 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 Grazie 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 Grazie